Sì, sul sito di Laboratori dal Basso. Quando però termineranno di fare tutta la registrazione? No, adesso no. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Non so se voi siete nuovi o eravate già all'ascorso seminario. Siete tutti nuovi? No, non sono tutti nuovi, però voi sì. Ok. La professoressa ci dice di sì. Ok. Allora, bentornati e ben ritrovati a tutti, anche per chi ci segue in diretta streaming. Oggi come Associazione Culturale Teatro Sospeso presentiamo il terzo seminario che abbiamo organizzato grazie all'opportunità che ci ha dato Laboratori dal Basso, il bando regionale che abbiamo vinto, e la società che ci sta dando una mano per la gestione del tutto, che è l'Arti. Oggi, come Teatro Sospeso, stiamo presentando questo terzo seminario che terrà Vincenzo Cipriano. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti quanti. Io vi riepilogo velocemente i precedenti due seminari di che cosa trattavano e poi darò la parola a Vincenzo. Il primo seminario che abbiamo trattato a Trani riguardava dall'idea di scrittura di un testo cinematografico a come poi poterlo vendere in una sala cinematografica. E l'ha tenuto Vito Palumbo, che è un regista e montatore pugliese che ha fatto la sua ultima produzione a Hollywood. Il suo produttore è stato... il nome in inglese io non lo so, però è quello che ha prodotto American Psycho, praticamente. Qualcuno l'ha visto? Andatelo a vedere. E poi come secondo appuntamento abbiamo avuto il vice direttore artistico del Giffoni Film Festival, Manlio Castagna, col quale abbiamo trattato il neuromarketing e quindi come poter vendere al meglio un prodotto poi. E tra l'altro come teatro sospeso siamo stati contenti perché man mano siamo andati salendo anche oltre a chi ci segue qui di persona ma anche chi ci ha seguito in diretta streaming perché siamo arrivati a un numero di 1500 persone che ci hanno seguiti in diretta. Quindi è stata una bella cosa. E oggi con Vincenzo invece tratteremo l'aspetto un po' più organizzativo. Quello più noioso. Quello più noioso. Di questo tipo di lavoro. Però che per chi un domani lo vuole fare di professione è una grande opportunità avere lui che ci possa dare molte dritte in questi due giorni su questo settore del mondo dello spettacolo. Io volevo ringraziare, come teatro sospeso, volevo ringraziare le partnership che ci hanno sostenuto in questo progetto. Le leggo perché sono bottante diciamo. Chissà dimentico, poi mi trinciano. Come prima partnership abbiamo avuto fotogrammi SNC, poi l'associazione ricreativa culturale Palazzo Bianchi di Trani dove abbiamo tenuto il primo seminario con Vito Palumbo, poi l'associazione di promozione sociale L'Altrove di Andria e abbiamo avuto anche il FIOF, il Fondo Internazionale Orvieto per la Fotografia e il Social Service che in realtà sarebbe la cooperativa che poi gestisce l'officina di San Domenico quindi ringraziamo anche il luogo che ci sta ospitando per questo seminario, quindi l'officina di San Domenico. Il CSA che ci ha permesso di fare la stampa e le affissioni dei manifesti che sono in giro per Andria e anche l'associazione culturale Puerapulie. Io ringrazio quindi anche le partnership e una cosa che dovendo seguire questo laboratorio con Annalisa, la responsabile della comunicazione, Maria Angela che fa parte dell'associazione Teatro Sospeso mi ero perso dei pezzettini nel mese di dicembre e Vincenzo mi ha rivelato io questo non lo sapevo e sono felicissimo è una novità è diventato il direttore generale del Consorzio dei Teatri di Bari che comprendono il Kismet, l'Abeliano e una società di consulenza che si chiama Coema quindi penso che stiamo avendo dei personaggi abbastanza importanti per tutti i settori che abbiamo invitato e sono contentissimo che sia qui adesso do la parola a Vincenzo stamattina faremo, fra un'oretta e mezza facciamo una pausa di 10 minuti quindi per chi ha delle domande da fare Vincenzo le può fare poi per le 13.15 faremo un'ora di pausa e riprenderemo alle 14.15 ok? l'argomento di stamattina se trovo il... ah eccolo il programma l'argomento di stamattina però ovviamente a seconda delle domande che fate poi tutto può cambiare sentiti libero insomma di giostrare il tutto è la prima sezione l'ABC essere un artista oggi diritti e doveri io do la parola a Vincenzo Cipriano Michele il microfono tuo è acceso giusto? sì l'ho acceso ok va benissimo grazie mille ah per chi volesse fare delle domande per chi è in diretta può scrivere sulla pagina di Teatro Sospeso e può mandare o un messaggio privato o un messaggio pubblico come volete e analisa poi in tempo reale me lo comunica e ti faremo la domanda grazie buongiorno a tutti io sono Vincenzo datemi del tu perché altrimenti vi fate sentire vecchio allora l'ABC deve essere artista partiamo dall'esperienza che poi è quella da cui sono nato io io ho 40 anni e sono il direttore generale del Teatro Kismet il Teatro Kismet è uno stabile di innovazione per l'infanzia e la gioventù cos'è questa dicitura stabile di innovazione? è quella che ci ha è il marchio che ci ha dato il Ministero 15 anni fa però adesso ve l'ho detto e adesso scordatevelo perché il Ministero dal primo gennaio ha cambiato completamente tutte le normative questo ve lo dico perché una giornata come quella di oggi ma anche come quella di domani non sarà impostata su cosa dice la legge perché le leggi variano di giorno in giorno cosa dicono le circolari perché ogni giorno ci sono novità quello che noi dobbiamo riuscire a fare in queste ore è quello di capire invece le logiche con cui si arriva a presentare dei progetti a lavorare nell'ambito artistico nell'ambito culturale perché se uno crede di imparare oggi e avere tutto chiaro per tutta la vita ha sbagliato perché ogni giorno deve curiosare studiare e leggere sappiate che io lavoro nell'ambito culturale e teatrale nello specifico da quasi vent'anni perché sono entrato a vent'anni al chismet e vi posso assicurare che mediamente le persone che leggono anche in un ambito come dire che dovrebbe essere intellettuale sono pochissime quelle che leggono e si studiano un bando quando viene scritto che poi è quello che vi consentirà di fare un lavoro di qualsiasi tipo anche se fate un avviso pubblico per diventare dipendenti in un'azienda o in una struttura pubblica parteciperete comunque a dei bandi e dovete sapere come leggere un bando quindi è la logica con cui ci si approccia a queste cose non è soltanto il sapere a memoria qualcosa il modo del teatro il mondo della cultura da una parte è molto romantico è una di quelle cose che ti come dire l'ambito artistico è quello che ti prende la pancia ti fa innamorare delle cose dall'altra parte c'è una parte più noiosa l'ho detto prima che è quella organizzativa e gestionale però è quella che consente alla parte artistica di fare le cose che piacciono agli artisti quindi io ad esempio sono a servizio di quello che fanno i miei registi fanno i miei attori e anche i miei creativi tecnici scenografi e quant'altro il mio lavoro è un servizio per far sì che tutto quello che loro si immagino diventi realtà il chismet come nasce negli anni 70 80 nascono tantissimi tantissimi gruppi teatrali si mettono insieme dei ragazzi loro avevano tra i 19 e i 20 anni andavano all'università partecipano a un laboratorio universitario di teatro erano una trentina provenienti da tutto il mondo c'erano ragazzi americani tedeschi inglesi francesi oltre che chiaramente anche dei pugliesi partecipano a questo laboratorio che era condotto da Carlo Formigoni che è ancora vivo adesso ha circa 90 anni ed è uno dei registi che ha fondato il teatro ragazzi partecipano a questo laboratorio il primo anno era pagato dall'università i ragazzi partecipano il secondo anno termina il laboratorio perché non c'erano più fondi questa parola ricordate perché non c'erano più fondi la sentirete purtroppo in continuazione per tutta la vostra vita non c'erano più fondi vuol dire non c'erano più i soldi per pagare il docente che poi doveva condurre quel laboratorio i ragazzi che cosa pensano di fare perché gli era piaciuto tantissimo decidono di autotassarsi e di fare anche il secondo anno di laboratorio il secondo anno di laboratorio eravamo nel 1979 io avevo 4 anni quindi non esistevo da questo punto di vista alla fine del laboratorio c'è un esito questo esito era uno spettacolo che come dire da una parte aveva appassionato docenti e anche molte persone che avevano visto l'esito e dall'altra parte aveva fatto sì che i ragazzi che avevano principato al conservatorio impazzissero e quindi facessero impazzire i loro genitori e quasi tutti decidono di diventare una compagnia teatrale quindi nasce l'associazione Kismet quasi tutti abbandonano l'università poi qualcuno riprende e si laurea i genitori impazziscono perché una ventina di ragazzi decidono di mettere su una compagnia teatrale come si fa a mettere su una compagnia teatrale devi ragionare nel razionalizzare i costi questa è una cosa che loro fecero a livello istintivo non la fecero con un programma di gestione o con un dottore commercialista dissero come facciamo noi venti a fare degli spettacoli teatrali soltanto ce ne siamo andati di casa dobbiamo fare gli spettacoli dobbiamo comprare i costumi dobbiamo comprare le scene decidono di andare a vivere tutti insieme in una villa quella villa era diventata il luogo dove producevano gli spettacoli il luogo dove vivevano il luogo dove provavano il luogo dove praticamente festeggiavano quando le cose andavano bene e piangevano quando le cose andavano male il fatto che tra di loro ci fossero moltissimi ragazzi come venivano da fuori aveva fatto sì che la compagnia producesse spettacoli che fossero come dire di livello internazionale sia per la lingua perché è sempre una banalità però poter andare in Germania se non conosci il tedesco è complicato ma soprattutto anche per le relazioni perché molti di loro avevano amici nei loro paesi di origine quindi l'associazione Chismet inizia a produrre spettacoli chiaramente poveri spettacoli poveri significa che tu lo fai con i materiali che adesso richiamano di riciclo con i materiali che loro trovavano come farete voi quando diventerete universitari probabilmente vi serve un comodino certo non lo andate a comprare a 200 euro cercate di trovare quello che potete quindi iniziano Carlo Formigoni poi è un maestro proprio della regia povera scene nude quindi è praticamente l'arte dell'attore in sé quello che comanda non è tanto le grandi scenografie maestuose iniziano a produrre spettacoli soprattutto a vendere all'estero infatti noi siamo conosciutissimi all'estero più che in Italia in Puglia iniziano a girare all'estero anche vanno in Giappone in Madagascar vanno in Inghilterra in Francia questo per dieci anni in questi dieci anni conoscono tantissimi artisti che erano quelli che a loro volta li avevano invitati per produrre per vedere i loro spettacoli e decidono di fare un'ennesima pazzia io avevo sedici anni quando succede sta cosa perché era il 1988 quando un'altra pazzia dicono ma se io voglio come dire ricambiare l'ospitalità degli artisti che mi hanno chiamato in questi dieci anni che cosa faccio? li faccio venire a Bari ma dove li posso portare? iniziano a girare all'epoca nacquero tantissimi piccoli teatri nacque Labelliano appunto il teatro dell'Anonima il piccolo teatro al cavallo degli anni 70-80 molti spazi che non erano teatrali un po' nella stessa logica dei laboratori urbani i laboratori urbani sono spazi recuperati e poi dati all'uso della creatività e dell'arte in questo caso sono come dire si costruiscono su fondi pubblici e soprattutto europei quindi non nazionali in quel caso era tutto privato non esistevano questo tipo di fondi iniziano a girare e nella come dire nella periferia di Bari trovano un capannone un capannone industriale vanno al proprietario e gli dicono questa è la parte più romantica quindi gli dicono senti caro proprietario che si chiamava Renato Cutrignelli che è una grandissima personalità era un imprenditore e praticamente gli dicono noi vogliamo fare di questo spazio un teatro il proprietario gli dice vabbè fate quello che volete ma se ne avete i soldi 18 milioni di lire per pagare i primi tre mesi di fitto allora la compagnia Kismet gli risponde quelli sono tutti i soldi che noi abbiamo da parte che poi sono quelli che siamo riusciti a guadagnare in questi anni e che sono poi quelli che abbiamo oggi il nostro vuole essere un segno di ospitalità agli artisti che ci hanno chiamato fino ad oggi è un segno alla città di Bari per poter fare di un luogo di periferia uno spazio aperto dove invitare gente che voglia dire delle cose che voglia rappresentare degli spettacoli fare dei concerti doveva essere una sfida che doveva durare tre mesi praticamente gli diedero l'assegno il proprietario disse fate quello che volete l'importante che mi avete pagato e partite loro sono partiti facendo un progetto teatrale che era rivolto proprio era costruito sul tema della legalità quindi teatro e legalità e avevamo prodotto uno spettacolo proprio su quel tema e si scoprì nel giro di pochissimi giorni che la gente aveva bisogno di una cosa di questo tipo perché iniziò a frequentare il chismet non so quanti di voi siamo venuti al chismet però tutt'ora in una stradina di campagna alle porte della città perché come dire linea d'aria sarà un chilometro dalla stazione quindi la via Capruzzi in una zona che è metà tra campagna e metà tra zona industriale e quando entri in questa strada ti sembra una strada abbandonata la luce ce l'hanno messa forse cinque anni fa la fogna due anni fa e forse il metano ce lo metteranno quest'anno tra l'altro non vi nascondo perché è la realtà ci sono tornate le prostitute perché ormai Bari è diventata da questo punto di vista ingestibile ed era una zona di spaccio e per tossici perché era una zona praticamente non vissuta da nessuno fino a quando non arriva il chismet perché essendoci un luogo aperto immaginatevi un luogo dove non ci andava nessuno qui ad Anglia che inizia a essere trafficato perché c'è gente che va gente che viene a tutte le ore ci sono spettacoli ci sono concerti questo modo di vivere un luogo allontana chi spaccia chi si buca è tornata di moda anche adesso la siringa chi si prostituisce e quindi un luogo praticamente mai vissuto inizia a vivere il chismet dopo tre mesi inizia a capire che questa cosa funzionava che il pubblico voleva desiderava fare questo tipo di esperienze e come dire decide di provarci per altri nove mesi quindi dice al proprietario senti noi ti abbiamo dato l'anticipo per tre mesi possiamo bloccarti il contratto di fitto per altri nove intanto il chismet continuava ad andare all'estero quindi produceva spettacoli ospitava spettacoli e andava all'estero questa è la prima fase la fase più romantica in cui si costruisce proprio l'identità quindi quello posso? certo praticamente questi ragazzi hanno pagato tre mesi di affitto al proprietario e questa struttura era un capannone industriale ma loro hanno dovuto sistemarlo poi? dalla alla zeta quindi a ulteriori spese? esattamente ok oltre ai 18 milioni anche il fitto era per l'utilizzo dello spazio e poi c'erano tutte le questioni di allestimento perché essendo un capannone industriale era una scatola vuota e tra l'altro una scatola vuota che non era addibita a luogo di spettacolo all'epoca fortunatamente perché ora non si può fare più una cosa del genere non c'erano tutte le normative legate al tema della sicurezza e quant'altro perché vent'anni fa 30 anni fa era possibile fare una cosa del genere adesso non potresti neanche partire che da una parte è giusto perché quando voi andate a vedere qualcosa ricordatevelo sempre chi lo organizza deve badare alla vostra sicurezza e badare alla vostra sicurezza significa far sì che ci siano tutte le cose fatte per bene e in un caso di emergenza chi sta organizzando deve sapere come affrontare quell'emergenza all'epoca tutte queste normative non esistevano quindi come dire l'associazione oltre che fare la compagnia teatrale pura questi ragazzi si inventarono anche dei sistemi per accogliere la gente trovando delle sedie magari all'inizio c'erano 200 sedie tutte diverse costruendo un palco facendo delle cose come dire quelle che adesso si chiamano costozeo nasce la compagnia quindi nel 79 nell'88 nasce il teatro chismet e la cosa che caratterizza da sempre il teatro chismet è produzione formazione e programmazione produrre significa fare uno spettacolo con i propri artisti programmare significa non soltanto far vedere il proprio spettacolo ma anche quello degli altri formare significa spiegare ai ragazzi attraverso laboratori teatrali attraverso altri tipi di esperienze cosa significa fare uno spettacolo teatrale o assistere a uno spettacolo teatrale questa era la peculiarità il tutto all'insegna dell'ospitalità nel senso che quando non ci sono soldi quando non ci sono come dire economie da far girare che fai cerchi di rendere la cosa che hai più bella che puoi quindi un fiore nel camerino frutto di stagione accogliere la compagnia essere gentile con il pubblico sono cose fondamentali che anche adesso che è cambiato tutto se non ci sono il pubblico non ti viene a trovare e gli ospiti che vengono non hanno non ti lasciano alcun segno perché vi ripeto la parte romantica di questo lavoro è la relazione con il pubblico e la relazione con gli artisti ed è la cosa più complicata perché non è facile parlare con un artista sappiate che gli artisti sono da una parte megalomani ma è giusto che sia così perché salire su un palco e dire a qualcuno qualcosa e farlo sempre nello stesso modo anzi migliorandolo replica dopo replica devi avere un talento e devi avere un carattere che ti consente di farlo non tutti sono portati per una cosa del genere fare spettacolo dal vivo è complicatissimo perché tu ripeti per migliaia di volte le stesse cose e quindi se non sei convinto non sei convincente allora l'artista è megalomani e sapete anche che siccome vada solo alla parte artistica solo visioni artistiche probabilmente non sa gestire neanche la sua vita professionale da qui nasce ma questo già con il piccolo teatro di Milano c'era la coppia Streller-Grassi uno si occupava della parte artistica e l'altro della parte organizzativa quando nacque il Kismet erano un gruppo di 20 ragazzi ve l'ho detto di circa 20 anni e tutti facevano gli attori chiaramente ognuno ha dei talenti e c'è magari qualcuno che dice vabbè io so fare l'attore però un pochino mi so districare anche nella gestione quindi che significa gestione voi immaginatevi quando una compagnia teatrale parte deve andare a Roma a fare uno spettacolo autori deve organizzare il viaggio considerate che magari gli attori 10 attori non è che partono tutti dalla stessa città o ci deve essere qualcuno che dice quello è l'orario del treno per domenico quello invece viene con l'aereo quell'altro arriva con la macchina prenotare l'albergo pagargli il ristorante le diarie arrivare in teatro fare il montaggio montaggio significa allestire le scene montare le luci se c'è un impianto audio e poi andare in scena finire lo spettacolo dopodiché smontare e poi magari dormire oppure farsi la notte in viaggio per tornare nella propria città questo per dirvi un'altra cosa poi andremo ad approfondire diritti e doveri dell'artista quando un artista si autoproduce sappiate che se dovesse tener conto di quello che dicono i contratti collettivi nazionali del lavoro non farebbe mai nulla cioè se io dovessi fare un monologo e non mi sento pronto è chiaro che provo il più possibile quindi se ho bisogno di provare 15 ore al giorno proverò 15 ore al giorno che cosa complica il tutto che se io decido per me nessuno mi può dire nulla perché io decido di non dormire pur di provare lo spettacolo per andare in scena ma quando devo decidere per un gruppo di persone mi devo porre il problema intanto che quelle persone chiaramente non si rimbambiscano quindi gli devo consentire anche un po' di riposo dall'altra parte devo anche strutturare la cosa in maniera organizzata in maniera tale che il più possibile le cose vengono fatte rispettando quelle normative che è quello che dice ad esempio un contratto collettivo nazionale del lavoro che voi magari sentite sempre al telegiornale e che vi dico la maggior parte delle volte non corrisponde mai alla realtà perché chi ragiona di queste cose non la vive quella realtà purtroppo è anche per colpa nostra perché dalle persone che ci rappresentano non sono le persone che probabilmente sanno quello che fanno tutti i giorni gli artisti o gli attori la cosa è molto complessa da questo punto di vista quindi nasce il Kismet nell'89 arriva il primo direttore artistico Paolo Ambrosino che poi è diventato direttore artistico anche di un teatro a Bologna poi a Torino e nasce anche l'idea dell'ospitalità quindi ospitando spettacoli di altre compagnie teatrali questa è la prima fase del Kismet la parte più romantica poi c'è una seconda fase dove Carlo Bruni che di Biceglie tra l'altro un cavallo di ritorno perché all'epoca era Perugia scende a Bari e per 13 anni diventa direttore artistico del Kismet quindi il Kismet a un certo punto diviene teatro stabile di innovazione perché inizia ad avere una visione come dire più imprenditoriale produce spettacoli e li vende con quei soldi ne produce altri e una parte di quei soldi li destina agli spazi perché comunque deve migliorare giorno dopo giorno e ad ospitare altre compagnie ospitare altre compagnie significa dargli un cachet quindi pagare il loro lavoro il loro spettacolo dall'altra parte incassi dei biglietti dal pubblico quando il Kismet inizia a crescere inizia a porsi la domanda di come gestire decine e decine di persone perché trattori tecnici organizzatori direzioni artistiche varie devi gestire il personale gestire il personale significa avere qualcuno che faccia sì che appunto tutti abbiano quello che li compete e soprattutto rispettino l'accordo che c'è tra un datore di lavoro e una persona da questo punto di vista un'impresa culturale non è assolutamente diversa da qualsiasi altra impresa assolutamente no quando lo fai a livello professionale se lo fai a livello come dire amatoriale o a livello come dire in forma associativa è diverso perché ognuno da volontario decide di dare un proprio apporto al progetto ma quando li fai a livello professionale devi capire che devi rispettare delle norme e lì si va a complicare tutto perché nel momento in cui rispetti delle norme tutto quello che fai deve essere costruito in base a quello che sono le norme o Domenico mi diceva giustamente mi piacerebbe che partecipassero a questo tipo di esperienze i dottori commercialisti i consulenti del lavoro i dottori commercialisti i consulenti del lavoro studiano le norme e le applicano in maniera identica a tutte le imprese le imprese può essere un supermercato può essere la divana e divani che è quotata in borsa e può essere un'impresa culturale che è una cooperativa noi siamo una cooperativa come il Kismet il dottore commercialista non gestisce la struttura fa sì che tutto quello che tu produci a livello amministrativo a livello fiscale poi porti dopo mille calcoli a capire quanto devi pagare di tasse a farti rispettare le normative fiscali a farti fare la dichiarazione di redditi e a far sì che il calcolo degli oneri e delle imposte vengono versate allo Stato perché altrimenti chiudi ma chi capisce poi come deve essere gestito con quali soldi e come trovare i soldi e come far sì che tutto si regga nel rispetto poi delle singole persone la figura più organizzativa quindi il Kismet dopo questa seconda fase di direzione organizzativa di direzione artistica scusate di Carlo Bruni dove il Kismet a livello artistico era arrivato a coprodurre con i Setagaya di Tokyo con il rap di Birmingham con teatri francesi e tedeschi quindi noi a livello internazionale giravamo tipo facevamo 400 recite in tournée nella stagione con tutte le nostre compagnie facevamo stagioni dove erano ospitati artisti che adesso sono dei nomi come dire del teatro italiano tipo Ema Dante tipo Marco Martinelli Danio Manfredini parliamo di teatro contemporaneo non parliamo di teatro di tradizione il teatro di tradizione magari in Italia ha più spazio il teatro contemporaneo in una città del sud è molto diverso fare teatro contemporaneo non è fare teatro di tradizione tu puoi fare uno stesso spettacolo con mille modi diversi è il teatro contemporaneo come dire è rischioso quello che si accinge a vedere uno spettacolo di teatro contemporaneo non sa che cosa va a vedere conosce il titolo conosce il regista si deve fidare quindi quello che vince l'idea progettuale non è il nome noi non facciamo nella nostra programmazione i nomi che voi potete vedere in televisione o al cinema capita raramente la nostra programmazione è fatta di quei nomi che poi magari dopo dieci anni sono qualcuno e Madante ha vinto una marea di premi ha fatto anche ed è stata fischiata tra l'altro ha aperto anche la scala due anni fa e adesso è un nome come dire di rilievo internazionale ma quando noi l'abbiamo ospitata nel 1999 non era nessuno poteva essere uno di voi che veniva al premio scenario che era fatta per le giovani compagnie e noi la conoscemmo è poi diventata quello che è quindi quello che noi facciamo è elaborare un progetto dal punto di vista qualitativo il più alto che si possa fare far quadrare i conti e poi proporre il progetto agli spettatori gli spettatori probabilmente a meno chi non è proprio appassionato di teatro non conosce quasi mai l'artista si fida e viene a vedere gli spettacoli questa è stata la nostra forza cioè la gente si è fidata di quello che gli abbiamo proposto gli è piaciuto quello che gli abbiamo proposto e quindi è diventato uno spettatore come dire assiduo e soprattutto noi lavoriamo sempre nel rinnovamento degli spettatori quindi lavoriamo tantissimo con i giovani quindi finisce la seconda fase della direzione artistica e inizia la terza fase quella più noiosa perché una direzione artistica si affianca a una direzione prima organizzativa e poi generale perché? perché questo exploit quindi il chismet ha una crescita un'impennata fa sì che ci sia come dire un fatturato raddoppiato fatturato significa volume di soldi che entrano e che escono tu lavori e quindi fai più recite e quindi incassi di più ma non significa che non spendi di più più lavori e più spendi perché se io faccio 100 recite magari spendo 100.000 euro se ne faccio 200 probabilmente ne spendo 200.000 quindi qualcuno inizia a pensare forse ci vuole una figura che possa gestire questi soldi che possa gestire le risorse tecniche umane che ci sono e far sì che le cose quadrino perché l'explore artistico del chismet corrisponde a un problema amministrativo ma soprattutto finanziario enorme perché non si è gestito la struttura da un punto di vista anche economico che succede il chismet a questo punto di vista entra in crisi i debiti diventano tantissimi le compagnie per quanto ci vogliamo bene siamo colleghi dicono cavolo non possiamo aspettare due anni per essere pagate iniziano a porre problemi perché tu chiami il madante e ti dice senti Vincenzo grazie per l'invito però o mi paghi velocemente oppure non sono in grado di venire anche volendo che succede il chismet decide vi posso garantire che anche l'ente pubblico è il peggior pagatore che esista quindi non è che se fai una cosa per un comune o una regione pensate che sia meglio anzi e poi vi dirò di questa cosa qui che succede il chismet dice come facciamo non siamo ricchi siamo in una situazione molto complessa dobbiamo trovare un direttore che si occupi di gestire organizzare dal punto di vista economico e dal punto di vista appunto delle risorse tecniche e umane la struttura non abbiamo i soldi per chiamare un esterno perché sarebbe l'ideale chi c'è all'interno del chismet che lo possa fare e ora arriviamo alla terza fase che è quella più noiosa che mi riguarda direttamente io ho 40 anni sono arrivato al chismet per puro caso non ero appassionato di teatro ero orfano all'età di 16 anni quindi praticamente quando andavo a scuola lavoravo facevo il commesso arrivo ai miei 18 anni avevamo dei grossi problemi finanziari in famiglia quindi decido all'epoca esisteva il militare di leva obbligatorio decido di rimanere in marina perché era l'unico modo per assicurarmi uno stipendio rimango in marina dopo 4 anni come dire finisce la ferma quadriennale intanto conosco il chisme per puro caso perché la mia fidanzata dell'epoca lavorava all'interno della società proprietaria del chisme e il chisme in quel momento cercava un ragioniere io ero un ragioniere perché gli serviva qualcuno che doveva gestire il botteghino del chisme botteghino al cinema quelli che stanno alla cassa che vi danno il biglietto quindi la cosa più banale del mondo quindi io mando il mio curriculum ero ancora in marina quando mandai il curriculum faccio l'incontro con le persone del chisme e la persona che mi presentò come funziona la struttura teatrale mi terrorizzò poi capì che aveva pienamente ragione perché fare questo lavoro significa voi considerate che è un lavoro che dovrebbe intrattenere le persone quando le persone sono libere quindi fondamentalmente tu lo fai di sera lo fai il sabato lo fai la domenica lo fai il giorno di Natale lo fai il giorno di Capodanno quindi apri perché la gente è libera in quel momento lì però non è soltanto quello che tu fai quando apri al pubblico perché tutto il lavoro che fai lo devi preparare prima così come una compagnia teatrale prova lo spettacolo prima di andare in scena un organizzativo predispò gli documenti per poter aprire un teatro quindi quando tu emetti i biglietti per farvi vedere uno spettacolo c'è tutto un lavoro da fare prima e quindi lavori anche negli orari d'ufficio quindi lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato la domenica di notte finisci alle 3 del mattino e poi il giorno dopo alle 9 magari hai un mattineco alle scuole e quindi alle 8 devi essere pronto in teatro quindi mi terrorizzò poi capì che aveva fatto bene perché vi posso garantire che è noioso ma non è il tempo di annoiarti perché praticamente corri dalla mattina alla sera loro cercavano direttore organizzativo io ero arrivato al chismet per puro caso mando il mio curriculum faccio questo colloquio di lavoro probabilmente perché gli altri si erano rifiutati chiamano me e inizio la mia avventura la mia avventura coincide con l'inizio della gestione del chismet al teatro Rossini di Gioia del Colle perché si aggiudicò un bando di gestione e quindi il chismet per questo cercavo una figura nuova in amministrazione mi dice ok vieni qui a Bari e inizia considerate che io dalle mie esperienze in Marina mi sono congelato a gennaio e al chismet sono arrivato a ottobre quindi gli ultimi quattro mesi della mia carriera militare che mi è servita perché non è molto diverso avere a che fare con dei militari rispetto con degli artisti poi vi dirò perché feci questa vita infatti poi chiesi due giorni di pausa perché ero esaurito mi alzavo la mattina alle 5 andavo a Brindisi perché era lì la caserma in cui prestavo il mio servizio tornavo alle 7 di sera e andavo al chismet la richiesta fu senti Vincenzo noi lo sappiamo che la mattina vai a Brindisi quindi non hai tempo però siccome vorremmo conoscerti un po' meglio potresti venire un paio d'ore la sera poi scoprì perché quando arrivai praticamente all'epoca noi avevamo un contributo dal comune di Bari e dovevamo rendicontarli cioè tu hai dei soldi dal comune gli dici come gli spesi come glielo dici gli porti le copie delle fatture le copie delle buste paga quindi io mi chiamarono perché gli serviva qualcuno che semplicemente doveva fare fotocopie di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di carte quindi io praticamente feci tre mesi di questa vita alla fine chiesi la cortesia di stare due giorni a casa perché non riuscivo più a dormire ero completamente esaurito e iniziò la mia avventura la mia avventura inizia praticamente insieme al chismet che gestisce i rossini considerate che nei primi mesi le due persone che lavoravano come in amministrazione che si occupavano appunto delle pratiche sia per i botteghini dei contratti con le compagnie delle pratiche personale prima uno e poi l'altro nel giro di tre mesi se ne andarono quindi io mi ritrovai solo a gestire una serie di cose che non avevo mai visto prima e la mia prima esperienza in una biglietteria fu al teatro Rossini non avevo mai fatto prima la biglietteria scoprì di avere questo talento innato rispetto a parlare con le persone e soprattutto gestire situazioni del tipo magari vi sarà capitata una marea di volte che qualcuno ti dà un biglietto prima i biglietti erano manuali non è come adesso che sono tutti elettronici e scopri quando arrivi lì cavolo ma c'è seduto un altro posto mio classico perché qualcuno ha sbagliato a assegnare i posti scopro questo immenso talento nel come dire organizzare la platea infatti la persona che stava con me a biglietteria mi dice anche per lei era la prima volta era la prima l'apertura della stagione del teatro Rossini mi dice Vincenzo non è male che c'eri tu che lo sai fare e io le rispondo onestamente non l'ho mai fatto prima però mi sono divertito un casino ok faccio questa esperienza tra l'altro la furbata della persona che mi chiamò chiedendomi la cortesia di andare alle 7 di sera dopo che mi alzavo alle 5 per andare a Blindisi fu Vincenzo ascolta noi la settimana prossima facciamo uccelli nel sito archeologico di Monte Sannace il chiesel è una delle altre caratteristiche che ha che è quella di fare gli spettacoli in qualsiasi luogo era un sito archeologico noi facciamo un progetto loro faccevano un progetto che si chiamava Collezione Tramonti quindi giravamo in tutti i siti archeologici proponendo degli spettacoli in quel caso era uccelli nel sito archeologico di Monte Sannace vado a vedere questo spettacolo mi innamoro del teatro e mi innamoro del chisme perché è un spettacolo bellissimo immaginatevi in un sito archeologico al tramonto mi innamoro del teatro dico cavolo che bello poi qua sembra che si divertono tutti è fantastico mi divertirò anch'io quindi mi innamoro di questo progetto e inizio a lavorare con loro scopro che però c'è tutto un altro lavoro non è soltanto quello di stare in scena con dei costumi con delle luci bellissime in un sito archeologico in un teatro come dire essere appunto davanti a una serie di persone essere protagonista c'è tutto un lavoro dietro le quinte che da una parte è molto noioso dall'altra parte è molto creativo relazionarti a degli artisti a dei tecnici è interessantissimo anche a livello psicologico perché scopri delle energie che tu pensavi di non avere e quindi scopri come approcciarti diventi a tua volta un tutologo perché occuparsi delle pratiche del personale che significa quante giornate hai lavorato quante ore hai provato ti devo dare un rimborso ti devo dare il CUD sapete che cos'è il CUD voi siete giustificati non l'avete mai avuto ma un uomo di 40 anni di 50 anni lo dovrebbe sapere perché il CUD non è altro che quello che poi tu devi presentare in serie di dichiarazioni dei redditi allo Stato per dire devo avere o dare dei soldi allo Stato che voi non lo sappiate è giustissimo ma uno che lavora da 30 anni forse si dovrebbe chiedere come mai non lo sa gli attori sono così i musicisti sono così molti tecnici sono così quindi tu non solo li devi curare la parte amministrativa ma li devi curare anche molto spesso la vita personale perché qualsiasi problema loro abbiano ci deve essere qualcuno che glielo deve risolvere perché se quell'attore ha un problema e non lo risolve va in scena e probabilmente fa male lo spettacolo questa è la logica con cui è nato il teatro professionale e con cui si è capito che forse c'era un problema e bisognava affiancare una figura artistica anche una figura organizzativa questo è un lavoro creativo è un lavoro come dire fare spettacolo è assolutamente un lavoro che proviene da pancia cuore dalla testa in parte rispetto alla parte intellettuale ma non rispetto alla parte come dire dell'intelligenza di ognuno di noi perché moltissimi se uno di voi decide di fare l'artista probabilmente avrà contro tutta la sua famiglia perché gli dice come devi campare ma tu ti rendi conto hai vent'anni devi studiare è certo che sia così mia madre ancora non ha capito io che cosa faccio 15 ore al giorno mi occupo di cose amministrative lei non lo sa mia figlia è una figlia di due anni e cinque mesi quando la porto in teatro la porto in teatro io al primo anno l'ho portata lei stava lì così a vedere quello che succedeva l'ho iniziata a portare questa stagione adesso è un po' più grande parla quindi iniziare l'attronarsi con lo spettacolo uno spettacolo non gli piace decide di uscire e mi ripeto in continuazione papà il tuo spettacolo nel tuo teatro era brutto non mi è piaciuto non mi è piaciuto non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché? perché Pinocchio tu mi hai detto che venivano a vedere Pinocchio mi hai fatto vedere una persona ma quello non era Pinocchio era una persona no amore ma quello è un attore un attore che c'entra ma anche se fosse un attore non era Pinocchio allora è molto complicato perché poi la tua vita personale è molto diversa da quella di tutti i tuoi amici di tutti i tuoi parenti perché quando loro sono liberi tu sei occupato sempre sempre noi ci siamo pure organizzati facciamo i turni almeno un sabato al mese riusciamo pure a essere liberi a turno ma quando loro sono liberi quando loro vanno nei weekend durante le feste di Natale sappiate che se voi fate questo lavoro io parlo dello spettacolo dal vivo sarete occupati arriverete ai cenoni tardi o non ci andrete proprio quindi è un lavoro dal punto di vista personale che è invasivo vi cambierà completamente la vita è bellissimo perché vi dà tanto però da un certo punto di vista vi toglie anche tanto quindi sappiatelo lavorare da un punto di vista organizzativo amministrativo o tecnico che forse è anche peggio vi dà tutti i riscontri negativi ma non vi dà il riscontro positivo di quello di essere protagonista salire su un palco essere la prima donna allora ognuno di noi sceglie che vita fare io ve lo sto dicendo in maniera così brutale perché lo dovete sapere se per caso qualcuno di voi vuole fare questa strada che cosa significa perché è divertentissimo ma dall'altra parte è complicatissimo gestire una famiglia con dei figli quando sei in tournè è un disastro allora il chisme dice cazzo ci abbiamo un ragazzo scusate ci abbiamo un ragazzo di 28 anni qui che finora cioè io ve l'ho detto ero arrivato lì come ragioniere facevo il botteghino poi dal botteghino siccome se ne era andato quello che faceva le pratiche personale quindi i contratti di scrittura con gli artisti tecnici dovevo fare pure quello poi se ne era andato pure quello che si occupava dei contratti con le compagnie la pratica del ministero della regione del comune ho imparato a fare pure quello nell'arco di un anno intanto passa il tempo subentra la necessità di trovare una direzione organizzativa e amministrativa non posso come dire chiamare il grande manager non ce ne sono tanti in realtà teatrale che possa sistemarmi le cose che faccio vado da quello che abbiamo in casa più giovane a più voglia a più come dire entusiasmo costa poco perché non è che ho preso uno stipendio diverso il giorno dopo quando mi hanno detto sei diventato il direttore del Kismet infatti la persona che è stata la colonna portante del Kismet che era quello che si occupava era un tuttofare al Kismet si chiamava signor Sabino quando questa cosa venne detta nell'assemblea assemblea dei soci perché era una cooperativa poi vi dirò che cos'è una cooperativa disse direttore ministro senza portafoglio sei tu perché non c'era una lira non c'era niente eravamo pieni di debiti e anche tanti crediti ma i crediti sono sempre nel mondo dello spettacolo virtuali sappiatelo non sai mai quando arriveranno è come se tu presti dei soldi a lei e non sai mai quando ti li restituirà e quindi se tu con quei soldi devi comprare una cosa puoi aspettare l'eternità allora che cosa inizio a fare io mi chiedo l'attività ordinaria di un teatro vi ricordo che è stabile di innovazione e vi dico anche scordatevi perché da primo gennaio non esistono più i teatri stabili in Italia l'attività ordinaria appunto è quella di produrre spettacoli programmare e fare formazione ci siamo resi conto studiandoci i conti e la gestione del tutto che questa cosa non bastava a coprire tutti i costi che c'erano perché c'era un fitto noi partimmo con 6 milioni di lire al mese adesso sono il doppio sono circa 7 mila euro al mese c'erano le utenze tu apri è come gestire una casa quando apri un teatro è come aprire una casa come quando tu ospiti qualcuno a cena li fai trovare tutto pulito tutto in ordine cerchi di cucinargli le cose migliori che sai cucinare e quindi gli proponi lo spettacolo più bello che tu possa proporgli e soprattutto cerchi di essere gentile e cordiale con chi ti è venuto a trovare aprire un teatro è esattamente la stessa cosa quindi c'è tutto questo aspetto e soprattutto quando tu apri non è detto che in automatico se tu fai più spettacoli incassi di più per due motivi uno perché devi tener conto di quanto pubblico hai intorno a te perché fare cento spettacoli magari hai cento posti non significa non automatico che tu tutte le volte che apri il tuo teatro col tuo spettacolo riempi anzi io rischio che se vai oltre quel punto di equilibrio probabilmente la metà degli spettacoli sono quasi deserti l'altra cosa è che tu ogni volta che apri sostieni altri costi accendi la luce il riscaldamento chiami la persona che si occupa delle pulizie se non sei tu stesso perché anche questo c'è quindi devi essere equilibratissimo inizio a studiare come dire il posto in cui avevo lavorato da questo punto di vista perché chiaramente io non facevo parte del Consiglio di Amministrazione che è la parte dirigenziale di una struttura non facevo parte della direzione artistica organizzativa mi ero approcciato per la prima volta a vedere i conti della struttura per cui lavoravo vedo i conti capisco che la situazione è complicata e dico va bene noi facciamo teatro apriamo cento mattinè dico mattinè per le scuole mattinè significa spettacoli proposti alle scuole magari voi ci siete stati qualche volta poi facciamo cento appuntamenti serali dopodichè il teatro su 365 giorni all'anno è vuoto cioè di 365 giorni togliete i mesi estivi toglieteli perché in un teatro nel meridione se tu a Milano ci vai fino a luglio a Bari o ad Andrea tu arrivi al massimo così a maggio è rarissimo andare a teatro in un luogo chiuso dopo il mese di maggio o viene qualcuno che tu sai che lo vedi una volta e non lo vedi più e quindi dici ci vado ma altrimenti non ci vai e fino a questo fino a ottobre perché qui l'estate dura cinque mesi quindi come faccio io a trovare le risorse per fare tutto quello che il Kismet vuole fare produrre continuare a produrre spettacoli mi chiedo se noi abbiamo uno spazio perché non utilizzarlo anziché cento giorni duecento e come lo utilizzo mica posso proporre ancora spettacoli teatrali cioè voglio dire la città di Bari è grande ma non è immensa non è che il mio pubblico può assistere continuamente cioè anche lui potrebbe essere il mio fratello lo posso pure costringere a vedere cento spettacoli sempre uguali sempre cento malati immaginari però probabilmente poi gli dovrò dare uno stipendio per poterlo fare quindi alla fine mi dà dei soldi con i biglietti io li restituisco con lo stipendio ma siccome questa cosa è impensabile decido di utilizzare quello spazio in un modo completamente diverso propongo questa cosa al consiglio di amministrazione il consiglio di amministrazione dice Vincenzo fai finora è andata male se peggio di così non dovrebbe andare che cosa facciamo noi? il chismet sapete com'è fatto? è un capannone industriale ha un grande foyer all'inizio all'ingresso dove c'è un botteghino un bar i servizi dove comunque c'entra almeno è il triplo di questo spazio qui poi c'è un lungo corridoio e poi c'è questo immenso capannone che noi abbiamo diviso in due c'è la sala grande con una gradinata e una pedana per terra che ha una gradinata appunto di 200 posti nella parte davanti una piccola gradinata di 100 posti e facciamo spettacoli un pochino più piccoli quindi io mi studio tutto e dico abbiamo 100 giornate di possibili aperture che cosa possiamo fare? per ottenere diversi obiettivi perché non è che tu fai i quadrati conti e basta tu devi far quadrati conti anche attraverso come dire delle operazioni coerenti con quello che tu sei non è che dall'oggi a domani uno che sa fare il gelatario si metta a fare mozzarella cioè sicuramente le mozzarelle le vengono fuori una schifezza saranno a gusto di limone non lo so allora qual è la cosa più come dire giusta? è uno spazio per lo spettacolo dal vivo? sì è uno spazio frequentato da migliaia di persone sappiamo noi come si gestiscono migliaia di persone in uno spazio? sì quindi abbiamo le competenze le professionalità abbiamo una serie di attrezzature che vengono utilizzate solo per 100 giorni potreste utilizzare per 200 migliaia di fari di cavi abbiamo i tendaggi le scene i fondali quindi che cosa possiamo fare? aumentiamo la nostra attività facendo un altro tipo di spettacolo dal vivo soprattutto la musica e a chi la indirizziamo quella musica? ai sessantenni quindi facciamo non lo so è un esempio banale perché la musica classica è adatta anche ai ragazzini però ha un certo tipo di target oppure centriamo anche l'obiettivo di avvicinare i più giovani con progetti musicali di un certo tipo iniziamo a fare progetti musicali per dirvi a Bari nel 1992 nasce un progetto che si chiama Stopover e parallelamente a Budapest nasce un progetto che si chiama Pepsi Festival gli italiani sono bravissimi a creare le cose gli altri sono bravissimi a farle durare nel tempo nasce il progetto Stopover a Bari sapete che cos'era? la pineta di San Francesco non so se ci siete mai stati vicino alla fiera e vicino allo stadio della Vittoria no? la pineta di San Francesco viene dato viene data un'associazione che dice qui tutti i ragazzi che devono andare in Grecia o in Turchia per passare le vacanze nei mesi estivi gli costruiamo un campeggio gratuitamente gli facciamo sostare e facciamo un bel progetto con musica teatro danza quindi una cosa fighissima io ero ragazzo avevo 17-18 anni quando andavo mi sono visto di Tfiba vabbè voi poco interessa di Tfiba ma ho visto di Tfiba quando ancora non ero nessuno scusate non so chi possa essere l'esempio di Tfiba oggi chi c'è oggi? di Subsonica vado no già nella mia età è Subsonica scusate io da quando sono diventato papà un po' mi sono allontanato dalla vita sociale non conoscono perché c'è One Direction non lo so una cosa fighissima quindi un ragazzo che da Milano o dal nord Europa doveva andare in Grecia quindi prendeva il traghetto da Bari si poteva fermare una o due notti gratuitamente e poi c'era questa rassegna musicale quasi sempre di musica in realtà pochissimo di teatro pochissimo di danza quindi una cosa fighissima funzionava vi avevo detto che era nato anche questo piccolo festival alla Budapest sfigatissimo dove facciamo soltanto i concerti di tradizione soltanto loro con il mandorino cosa bruttissima sfigatina non ci andava nessuno sapete che quel Pepsi Festival è diventato lo Ziger Festival di oggi avete mai sentito parlare dello Ziger Festival questo però è moderno è Wanyun cioè è grave questa cosa cioè è gravissima lo Ziger Festival praticamente il festival più importante d'Europa è forse uno dei primi cinque in assoluto a livello mondiale il nostro invece lo stop è fighissimo dopo due anni è morto è morto l'associazione che si occupava del campeggio dell'organizzazione dei concerti comunque ma questo durava solo nel periodo estivo sì 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 e anche il loro durava solo nel periodo estivo la loro fortuna come dire l'unica fortuna rispetto a noi italiani e baresi è che loro hanno un'isola al centro della città che per tre mesi all'anno è destinata all'attività di spettacolo di tutti i tipi da teatro musica danza quindi loro hanno fatto sì che il loro piccolo Pepsi Festival perché lo si chiamava così perché lo sponsor era la Pepsi adesso è diventato lo Ziget Festival andate sui vostri telefonini dopo dopo eh e vedete che cos'è lo Ziget Festival è vivido anche ad andarci perché un'isola si trasforma in un immenso spazio adibito per spettacoli e ci sono credo 15 aree campeggio uno per ogni nazione c'è l'area campeggio francese c'è quella giapponese c'è quella americana c'è quella tedesca poi ce n'è una italiana e poi c'è quella internazionale cioè tu ci vai e puoi trovare chi vuoi sappiate che gli italiani nel 90% dei casi vengono in quella italiana perché poi mai sia ti devi mischiare con gli altri non so l'inglese non so il francese come faccio e c'è musica 24 ore su 24 spettacoli 24 ore su 24 da mattina una sera in questa isola che è al centro di Budapest quindi tu attraversi il ponte e sei nel centro di Budapest che se voi non ci siete mai stati andateci è una metropoli pulitissima sono tutti cordiali ed educati detto questo è un'esperienza una delle tante che vengono fatte in Italia e da noi quindi il chismet che fa decide di utilizzare quello che non era utilizzato e adibirlo a quello però che sapeva fare quindi spettacolo dal vivo perché vi ho citato lo Ziegler Festival? perché questi ragazzi che avevano fatto lo stopover che comunque erano entrati in contatto con lo Ziegat quello che era il Pepsi continuano a lavorare negli anni con questo piccolo festival che anno dopo anno cresce essendo di Bari si occupavano della promozione a livello italiano di quel festival lì e a un certo punto lì nacque il primo progetto in realtà il primo progetto musicale al chismet nacque per i miei 29 anni perché volevo fare una festa e dissi mettiamo un DJ un VJ una cosa da lì nacque l'idea che poteva essere utilizzato come un vero club facciamo questa esperienza con i ragazzi dello Ziegat e organizziamo lo Ziegat Soundfest e scopriamo che artisti che all'epoca non erano e questi li conosci Caparezza all'epoca non lo conosceva nessuno era il primo album lui partecipò da noi al Contro Festival che era una 48 ore uno degli eventi musicali che avevamo inventato una 48 ore non stop di musica dal vivo in diretta radiofonica quindi tu lo potevi sentire dovunque e se volevi assistere al concerto anche alle 5 di mattino venivi al chismet e potevi fare una cosa del genere allora che succede? Caparezza partecipa allo Ziegat Soundfest e poi va a Budapest da lì nasce questo è uno dei tanti esempi è successo anche con il gruppo Salentino che questo lo conoscerete chi? no no su Sound System sono bravissimi non hanno avuto il successo degli altri gruppo Salentino Negro Amaro vengono al chismet partecipano al Contro Festival Contro Festival è uno spazio dove tu hai 20 minuti per suonare 3-4 pezzi e poi Negro Amaro non li conosceva nessuno noi avevamo inventato anche questa struttura cioè io non devo proporre una cosa ai giovani soltanto perché poi devo coinvolgerli quindi insieme a Contro Radio all'epoca ci inventammo questo progetto che era il Contro Festival quindi ospitavamo gruppi emergenti che però avessero prodotto almeno un cd autoprodotto che andavano in diretta radiofonica quindi potevano ascoltarli tutti e anche sul sito poi con le tecnologie si potete fare anche quello in 48 ore consecutive all'interno dello spazio del chismet ma questi gruppi come venivano selezione? dal direttore artistico di Contro Radio chiaramente immaginatevi quando parte un progetto tu devi riempire 48 ore e inizia a chiamare anche qualche amico il secondo anno e inizia ad avere più richieste il terzo anno sei inondato di richieste e quindi devi purtroppo dire a qualcuno guarda vieni l'anno prossimo quello significa fortunatamente avere successo quindi tutte queste operazioni qua c'entrarono tre obiettivi perché quando tu fai appuntamenti di questo tipo chi lavora chi sta alla cassa del bar cioè se qui c'è un concerto tu assisti a un concerto magari ti compri una bottiglietta d'acqua se sei minorenne una birra se sei maggiorenne una coca cola se sei minorenne magari un whisky se sei maggiorenne quindi lavora il bar lavora la biglietteria perché c'è un biglietto di ingresso quindi entravano liquidi soldi veri non quelli dei documenti degli enti o dei liquidi che tu con quei soldi potevi pagare i debiti che avevi e soprattutto lo facevi non attraverso azioni come dire scordinate e non coerenti con quello che tu sei fare ma lavorando in un altro ambito dello spettacolo dal vivo parallelo a quello che tu sei fare perché gestire uno spettacolo teatrale per uno che fa sala o che fa biletteria è uguale a gestire uno spettacolo di musica non cambia nulla le competenze che ha e le utilizzi anche in altro questa cosa qui poi si è talmente voluta al punto che magari il personale del chismet visto che aveva fatto tutti i corsi antincendio sapeva salvare una persona perché aveva fatto il corso di primo soccorso sappiate che sono tutte cose che poi dovreste fare se avete un rapporto con il pubblico cose su cui tu paghi dei soldi fai un corso dopo un giorno te lo sei dimenticato comunque abbiamo dato la nostra professionalità anche ad altri quindi quando Vincenzo e Domenico stanno fermi perché non c'è spettacolo non c'è lavoro il chismet dice a Vincenzo e Domenico ok guarda che c'è il concerto di Giorgia Molfetta ci è capitato l'estate scorsa Giorgia la conoscete meno male no lo dico per me meno male perché altrimenti il concerto di Giorgia Molfetta gli serve personale quindi abbiamo iniziato come dire ad avere una visione di gestione in cui quello che tu sai fare lo spendi non soltanto su di te ma lo dai anche ad altri in cambio appunto di come dire servizi soldi e quant'altro banalmente questa è la storia molto velocemente di quello che è stato il chismet e di quello che è la storia di quasi tutte le strutture teatrali e sappiate che quasi tutte sono in enorme crisi perché quando io vi ho detto che il chismet è diventato uno stabile innovazione vi ripeto scordatevi stabile innovazione perché non esiste più lo stabile e poi vi parlerò domani se ci siete di quello che è la riforma del ministero del FUS del fondo unico per lo spettacolo perché ci sono dei fondi legati alla cultura e allo spettacolo perché ci sono cinque persone qua che fanno parte di un gruppo teatrale professionale non volontari giustamente fanno un mese di prove fanno un mese di prove quello è un lavoro tu per un mese di lavoro devi avere uno stipendio giusto se tuo padre fa l'attore speri che tuo padre abbia uno stipendio gli venga anche pagato e quindi un attore ha un costo dopodiché gli devi mettere un tecnico vicino che si immagina quali luci banalmente come quando voi arredate casa vostra come metto il letto dove metto l'armadio e come illumino la mia scrivania molto terra terra è la stessa cosa ci vuole un professionista che sappia rendere bello il lavoro dell'attore poi ci vuole qualcuno che sappia fare i costumi allora molto spesso quando la compagnia agli esordi l'attore sa fare pure il costumista sa fare pure il tecnico sa fare pure il bigliettario perché è così quando inizia a crescere tu fai l'attore lavori un mese e hai uno stipendio gli attori sono cinque poi c'è un tecnico che magari ti ha un aiuto perché quando sali con su ingratice non ce la fai da solo ci deve essere qualcuno giù che ti legge la scala che ti passa il faro dopodiché ti serve un scenografo perché devi fare gli allestimenti magari c'è un sarto poi deve essere qualcuno anche che te lo vende lo spettacolo che tu hai fatto quindi ci sono dei costi allora mediamente quanto pagate uno spettacolo voi siete andati mai a teatro siete andati un mattino quanto avete pagato quel biglietto ve lo ricordate cinque euro vi ricordate quanti eravate sì quello è il mattino per le scuole ecco che loro dicono cinque eravate quanti cento persone duecento persone era piena quindi diciamo che erano duecento persone facciamo un esempio su duecento immaginiamo cinque euro per duecento persone quant'è l'ho chiesto non perché non lo so però ragazzi non vi deludete interagite sono mille euro allora banalmente uno pensa mille euro cavolo hanno incassato mille euro allora facciamo un ragionamento mille euro intanto non sono tutti di chi organizza perché c'è una parte di IVA l'IVA sapete che cos'è è la tassa che paga la persona fisica cioè la pagate voi in realtà noi siamo quelli che la prendono e la danno allo Stato quindi di quei mille euro ci sono cento euro per fare una cifra tonda che non sono nostri ma sono tasse vostre che noi prendiamo e diamo allo Stato non sei il 22% no l'ho fatto su cento euro perché non volevo fare lo scorpo però se già se già 5 per 200 è stato un casino dire fate lo scorpo del 22% allora prendiamo questi mille inizio a togliere cento euro e li do allo Stato poi ci sono i diritti siae sapete che cosa sono i diritti siae tu sei un artista no? giustamente hai depositato un testo quando quel testo viene prodotto messo in scena bisogna pagare un tot all'autore che l'ha scritto sono diciamo facciamo un esempio tondo giusto per chiarezza altri cento euro quindi siamo già ottocento dopodiché io per aprire quel teatro probabilmente ho pagato per gestire duecento spettatori quattro persone che hanno gestito la sala sembra una banalità quelle quattro persone che vi hanno detto accomodati lì sediti lì tu vai vicino a quello non fanno solo quel lavoro in una struttura professionale sono anche la scuola di emergenza se scoppia un incendio sono quelli che sanno cosa devono fare quando c'è da prendere un estintore quando c'è da fare la respirazione bocca a bocca perché hanno fatto il corso di primo soccorso quindi sembra una banalità ma quelle quattro persone che voi trovate in certi casi sono le hostess in altri casi noi ad esempio non abbiamo hostess abbiamo un personale volontario nostro che è vestito come posso essere vestito io male che accompagna il pubblico in sala e sono quattro persone che devono essere pagate voi avete incontrato quello che sarà la biletteria una quinta persona poi c'è un tecnico responsabile della struttura che comunque ha acceso il riscaldamento ha aperto il teatro poi sicuramente qualcuno prima che voi arrivate dopo che voi vi siete andati c'è qualcuno che ha messo in ordine ha fatto le pulizie poi c'è la compagnia anche che va in scena che vi ho detto che magari per mettere in scena quello spettacolo gli sarà costato per produrlo immaginatevi un mese di prove cinque attori due tecnici uno scenografo un sarto eccetera eccetera avrà come dire speso non so 30.000 euro 40.000 euro per mettere in scena quello spettacolo va in quel teatro voi spendete mille euro chi organizza paga tutti i costi che vi ho elencato prima come faccio a dare dei soldi anche alla compagnia cioè il costo di un progetto culturale di un progetto di spettacolo è sempre purtroppo molto più alto di quello che uno spettatore mediamente può permettersi perché se voi dovreste pagare veramente quanto costa quella cosa che voi state vedendo in termini di gestione dello spazio in termini di produzione del lavoro probabilmente quei 5 euro si trasformavano in 50 euro quindi intervengono con delle normative nazionali gli enti ministero regione magari anche il comune per dare quella differenza tra il costo del biglietto e il vero costo del progetto che tu hai proposto non so se avete capito sì però proprio per questo di solito quando si fanno i mattini non penso che siano tanto rispettate queste regole che senso cioè non è una regola attenzione è la logica con cui per cui gli enti danno un sostegno allora quello che è la realtà ecco perché io con Domenico ragionavamo su come impostare questo incontro è un incontro molto tecnico però immaginatevi se io vi facessi leggere adesso su un video su uno schermo vi facessi vedere il contratto collettivo nazionale del lavoro vi facessi vedere la normativa regionale su come vengono dati i fondi dello spettacolo quelli del ministero dopo un minuto sarei io da solo e lui che fa un po' di casino così nello streaming sentono che c'è gente perché voi ve ne sareste andati tutti allora qual è la logica con cui per cui ci sono dei fondi a sostegno delle attività culturali poi su come vengano utilizzati quei fondi da parte di chi gestisce le attività ci sarebbe un'infinità di cose da dire ma un'infinità tra 5 minuti andiamo in pausa già 10 minuti di pausa poi riprendiamo ah ok quello è un aspetto che poi approfondiremo in un secondo momento allora che cosa succede siccome io non mi posso permettere di vedere il concerto di Vasco Rossi e lo stato interviene l'artista 5 minuti che cavolo posso dire in 5 minuti che poi mi devo fermare l'artista è una figura molto molto complessa perché voi sappiate che il mondo dell'arte dello spettacolo dal vivo va da Domenico Tacchio che ama il teatro è che come dire è un singolo attore o chi per lui e quindi è un libro professionista da Roberto Benigni che ha vinto l'Oscar ed è un eccellente professionista e che conoscono tutti in tutto il mondo e che chiamano Roberto quando qualcuno ti chiama per nome ecco perché io vi ho detto chiamatemi Vincenzo vuol dire che è importante al dipendente all'attore di un'associazione culturale che lo fa a livello amatoriale perché a parte il lavoro che fa ma per passione ama il teatro e quindi gli piace mettere in scena dei progetti teatrali però non ha uno stipendio perché lo fa nel suo tempo libro qualcuno va in palestra qualcuno magari fa yoga qualcun altro ama fare il teatro ha come dire il dipendente di un ente pubblico come può essere una fondazione lirico Petruzzelli ora capite che se io sono un amatoriale perché faccio non lo so il professore in una scuola e poi la sera mi diletto a fare teatro magari due volte all'anno metto in scena quello spettacolo è un discorso non ho impegni rispetto ad altre persone ma soltanto rispetto al mio tempo libero diverso è se sono un attore a livello di Benigni perché lì non valgono i contratti collettivi nazionali del lavoro Benigni se fa uno sbadiglio costerà 500.000 euro se ne fa due forse gli fa sconto diciamo gli fa lo sconto del 20% diverso è il dipendente di una società privata come il Kismet è una cooperativa che fa l'attore per una società privata ancora diverso è quello che fa il dipendente per un ente pubblico e quindi magari la fondazione lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli ora perché vi dicevo che il contratto collettivo non corrisponde mai alla realtà perché gestisce queste figure esattamente tutte nello stesso modo quando io lavoro per la fondazione Petruzzelli io ho assistito a delle scene incredibili che dal punto di vista tecnico e legale sono giuste dal punto di vista dell'artista per me è allucinante però quando capita che tu fai per contratto devi fare sei ore e mezza se per caso il maestro o il coreografo o il regista dice ragazzi dobbiamo fare altri dieci minuti di prova scatta lo straordinario ecco perché si dicono i carrozzoni però non è colpa di chi gestisce quel carrozzone o almeno non è sempre colpa perché nel momento in cui tu ogni volta che scatta l'orario oppure passa la mezzanotte o qualsiasi altra cosa costa di più se lo facciamo noi noi quattro decidiamo vi ho visto interessati a questo tema a fare uno spettacolo teatrale probabilmente noi se non ci sentiamo pronti siamo noi a dirci tra di noi oh ragazzi domani è il giorno di Natale ma dobbiamo provare perché in 26 abbiamo il debutto e facciamo schifo non ci stiamo a porre il problema sia a livello di struttura privata sia a livello come dire di volontario quindi di associazione perché il nostro obiettivo è di fare quella cosa nel migliore dei modi perché quando tu vieni a vedere il mio spettacolo il nostro spettacolo devi essere soddisfatta può piacerti o non piacerti ma tu devi come dire vedere qualcosa su cui qualcuno ci ha messo competenze professionalità e soprattutto energia poi può anche non piacerti però tu lo capisci se uno è un professionista e ci crede in quello che fa e non lo dico soltanto a livello tecnico professionista o no perché io conosco diversi attori magari compagnie amatoriali sono bravissimi il talento non è dato perché tu lavori da vent'anni in una compagnia professionale perché magari un professore che fa il teatro forse in alcuni casi è molto più bravo di un attore professionista mi è capitato io ho visto uno spettacolo ragazzi che si chiama era l'amleto della Raffaello Sanzio lo facciamo allo stadio della Vittoria sotto le gradinate lo stadio della Vittoria era chiuso perché intanto avevamo aperto lo stadio San Nicola in uno spazio che era come dire un po' come questo molto grande pareti bianche c'erano quattro cose in scena Raffaello Sanzio la compagnia di teatro contemporaneo di innovazione più importante che ci sia in Italia e vi consiglio se potete se vi capita di andare a vedere uno spettacolo della Raffaello Sanzio perché vi ripeto un po' piacevi o non piacevi ma è un'esperienza è un'esperienza era un attore in scena che raffigurava cioè lo spettacolo parlava della pazzia di Amleto e basta dove c'erano quattro parole in croce e c'era l'attore che faceva il suo personaggio senza parlare e ricordo benissimo perché ormai sono passati 16 anni che c'erano in scena 40 colpi di pistola io vi ho detto non ho studi umanistici non ero appassionato di teatro però sono ormai un ottimo spettatore perché ne ho visti a migliaia e chiaramente so riconoscere la finzione dalla realtà vi posso assicurare che io quando l'attore si avvicinava perché non era uno spazio teatrale quindi la distanza era questa io gli etreggiavo perché a livello di percezione per me quello era pazzo veramente alla fine dello spettacolo mi sono avvicinato e ho scoperto che era un professore di scuola elementare e vi posso dire che era la persona più dolce e umana che esisteva sulla faccia della terra e aveva fatto come prima esperienza quel lavoro con la Raffaello Sanzo e vi ripeto se potete andate a vedere uno spettacolo della Raffaello Sanzo perché sono cose che non vi capitano mai purtroppo sono molto costosi quegli spettacoli quindi noi non riusciamo a farli sempre però ricordate andate a visitare il sito e capite dove vanno in tournée detto questo posso andare avanti o devo dovrei prenderti una pausa così poi tra dieci minuti ritorniamo ritorniamo qui mi devo spegnere sto a fare ora lo spegniamo grazie a tutti